buongiorno bentornati sul mio canale oggi prepareremo insieme dei panini arabi con lievito madre e farina senza glutine ho già preparato la mia farina nella ciotola aggiungo adesso il mio lievito madre che ho già fatto che ho già rinfrescato e ho già fatto raddoppiare con un po dell'acqua della ricetta ricavo tutto il mio lievito madre inizio a incorporarlo nelle mie farine aggiungo il resto dell'acqua e proseguo in base al mix utilizzato bisognerà adattare la quantità di acqua in effetti questa volta ho usato un mix differente per cui mi ero tenuta da parte una ventina di grammi di acqua che adesso aggiungo al mio composto i mix hanno tutti assorbimenti un po' differenti dipende proprio anche dagli amidi che contengono per cui a volte bisogna proprio adattarsi un po' a quello che è l'assorbimento in ricetta in questa ricetta ci sono pochi ingredienti per cui aggiungerò già adesso il mio sale ne basterà un cucchiaino e aggiungo anche dell'olio olio che come vi ripeto sempre negli impasti senza glutine aiuta sicuramente a dare omogenità all'impasto e quindi facilità il nostro lavoro ne metto circa un cucchiaio e mezzo ok una volta fatto questo lavoro procederò a lavorare l'impasto con le mani sarà un impasto abbastanza morbido però non troppo appiccicoso una volta finito di lavorare per cui riusciremo a creare la nostra palla di impasto da poi lasciare a lievitare è un impasto molto veloce si lascerà poi lievitare fino a che il il composto non raggiungerà il raddoppio del suo volume e poi procederemo con la nostra ricetta ecco l'impasto è molto morbido ancora un po appiccicoso quindi proseguo un po con la lavorazione però già ha preso corpo e quindi si può tranquillamente lavorare con le mani ora metterò il mio impasto a riposare coperto in un luogo caldo e lascerò che raddoppi di volume ci vediamo dopo la prima lievitazione ed eccoci tornati dopo la lievitazione prendiamo il nostro impasto che sarà perfettamente raddoppiato e sicuramente più lavorabile infariniamo leggermente il nostro piano colberazione che sarà perfettamente raddoppiato prendiamo il nostro impasto e a questo punto lo divideremo nelle porzioni che preferiamo io in questo caso farò sei porzioni però poi ognuno potrà dividerlo in base alle proprie necessità ecco qua ognuno di questi pezzetti sarà pirlato quindi gli daremo una forma arrotondata e poi lo schiacciamo per fare una sorta di cerchio cioè quello che poi sarà il nostro panino arabo basterà semplicemente modellarlo con le mani perché l'impasto è comunque morbido ma non è appiccicoso per cui si lavora benissimo e quindi si può tranquillamente lavorare con le mani dopodiché si potrà schiacciare o con un mattarello o semplicemente allargare con le mani gli daremo uno spessore di circa 6-7 mm insomma non troppo fine in maniera tale che quando poi lo cuoceremo potremo vederlo crescere in cottura si può fare anche più fine ecco tanto l'importante è anche avere uno spessore che ci dia la possibilità di cuocerlo senza bruciarlo ecco qua il nostro disco è pronto lo possiamo poggiare su una carta da forno quindi su una teglia e in questo caso ci sono due possibilità per la cottura io questa volta lo cuocerò in padella ma possiamo comunque anche cuocerlo in forno tranquillamente come un normale pane per cui non mi riesco a prendere la mia forma e metterla sulla teglia proseguirò così con gli altri quindi modello la mia pallina di impasto la piattisco leggermente con le mani e poi mi aiuto con un mattarello in questo caso non è appiccifoso perché si lavora tranquillamente con il mattarello e si riesce a dare tranquillamente la nostra forma una volta fatto questo potremo lasciarlo riposare in modo che faccia una sorta di seconda lievitazione ecco io in questo momento ho fatto una suddivisione dell'impasto abbastanza a occhio per cui avrò delle forme più o meno grandi per cui non saranno tutti uguali volendo si può pesare l'impasto e dividerlo con più precisione ci saranno panini magari un po' più grandi o un po' più piccoli però dovendo fare una cottura in padella non ci sono problemi di sorta ecco qua l'impasto dopo la lievitazione cambia veramente moltissimo come consistenza perché comunque gli amidi che sono nella farina lavorano durante la fase di lievitazione e ci aiutano a rendere questo impasto sicuramente più lavorabile con le mani e meno difficoltoso da gestire questa è una ricetta molto veloce io semplicemente perché qui comunque comincia a fare freddo ho fatto fare la prima lievitazione praticamente lasciandolo tutta notte a temperatura ambiente dipende un po' anche dalla stagione in cui si fanno questi panini se fa caldo ci vorrà qualche ora ecco bisogna proprio osservare l'impasto perché come vi dico sempre gli impasti non vanno ad ore con il lievito madre ma vanno proprio a raddoppio quindi quello che bisogna sempre fare con i nostri impasti è osservarne proprio il loro raddoppio per cui io in questo caso ho fatto proprio così perché qui in questi giorni fa freddo per cui le temperature non aiutano una lievitazione molto veloce e chiaramente l'ho potuto lasciare a temperatura ambiente proprio perché essendo le temperature basse non ho il rischio che il mio impasto vada a stracciarsi diversamente se si fa in estate bisognerà fare attenzione perché altrimenti il nostro impasto rischierà di creparsi e quindi poi di stracciarsi l'impasto invece con queste temperature intorno ai 19-20 gradi può tranquillamente stare tutta la notte o comunque diverse ore perché io l'ho impastato ieri sera per cui poi l'ho lasciato tutta notte a lievitare li sto facendo anche leggermente più sottili come spessore ma dipende un po' dall'effetto che si vuole dare si lasceranno poi fare una seconda lievitazione per cui potranno comunque un pochino crescere quindi li posso anche stendere leggermente più fini diciamo che non devono avere lo spessore tipo piadina perché altrimenti non si riuscirà ad avere l'effetto del gonfiarsi durante la cottura questo ecco sicuramente però poi questo lo vedremo nella fase di cottura ecco man mano io se vedete sto aggiungendo ma proprio un filo di farina sul mio piano semplicemente per aiutarmi a stendere con più facilità l'impasto ma anche senza farina non si attacca moltissimo è un impasto non molto idratato per cui si lavora decisamente bene anche su un piano ecco qua l'ultima e anche la fase di formatura praticamente è quasi finita per cui come vi dicevo la ricetta è davvero molto veloce per la cottura poi sarà così poi vi farò vedere in cottura come come avremo una cottura molto veloce per cui ora terminiamo ok ed anche l'ultimo è pronto avrò quindi i miei dischi ora li coprirò e li lascerò riposare almeno un'oretta perché diciamo che farà una sorta di seconda lievitazione anche se è un pane che comunque non necessita grandissima lievitazione però lasciarlo a riposare ci aiuterà poi ad avere un un migliore effetto in cottura quindi copro il mio impasto in questo caso con della pellicola ma semplicemente anche con un panno senza problemi con il nostro finaccio e proprio per lasciarlo riposare una volta coperto lo lascio riposare e ci vediamo dopo per la fase di cottura dopo aver fatto la seconda lievitazione scaldiamo bene una padella sul fornelli una padella antiaderente iniziamo a cuocere uno alla volta i nostri panini una volta che la padella sarà ben calda appoggiamo semplicemente il nostro panino attendiamo un attimo la padella deve essere ben calda in maniera tale che non si attacchi l'impasto e che aiuti la crescita del nostro impasto abbastanza rapidamente e dovremo girarla frequentemente fino a quando sarà pronta e cotta da entrambi i lati teniamo sotto controllo il nostro impasto e lo giriamo con una spatola piano piano vedremo che il nostro impasto comincerà a gonfiarsi creerà il vuoto tipico del panini arabi eccolo che inizia a gonfiarsi e a formare la prima bolla interna ogni tanto lo rigiriamo in maniera tale che si possa cuocere uniformemente da entrambi i lati ed ecco che il nostro impasto comincia a muoversi e a gonfiarsi e farà il tipico effetto a palloncino in pochissimi minuti il nostro panino sarà pronto ecco qua lo giriamo ancora una volta per far sì che si dori anche dall'altro lato però come vedete ha creato proprio il tipico palloncino chiaramente poi quando verrà tolto dal fuoco un pochino si sgonfierà ma questo rimarrà comunque un effetto di vuoto interno e servirà a rendere i nostri panini facilmente farcibili li potremo farcire con quello che vorremmo ecco qua il nostro primo palloncino leggermente dorato ma sarà sufficiente lasciarlo così proseguiremo poi con gli altri nostri dischi di impasto sempre con lo stesso criterio padella calda facciamo fare la prima doratura da un lato e giriamo il trucco è proprio girare molto spesso in maniera tale che il calore si distribuisca uniformemente e che quindi il nostro pane cresca e si gonfia all'interno la cottura di questo pane si può fare anche in forno non è detto che l'effetto palloncino risulti lo stesso perché il calore del forno è un po' distribuito in modo differente però risulterà comunque un ottimo pane anche in forno si potrà cuocere a 180 gradi per una quindicina di minuti ecco poi anche questo dipende da forno a forno perché come sappiamo i forni sono tutti differenti per cui non sempre i risultati sono identi quindi ci bisognerà regolare sia la temperatura che il tempo in base al proprio forno ecco sicuramente questo è un pane che non deve dorare troppo perché come vediamo spesso anche in commercio il pane arabo è abbastanza chiaro è un pane che si deve giusto appena dorare ecco che già girando cominciano a farsi le prime bolle all'interno per cui il calore aiuta proprio questa nostra crescita interna dell'impasto per cui si distaccherà all'interno e rimarrà questo effetto di vuoto perfetto per farcirlo giriamo una volta cotti io li metto su un piatto o su un canovaccio coperti in maniera tale che rimangono comunque molto soffici e una volta raffreddati si possono tranquillamente conservare anche in freezer eccolo che inizia a gonfiarsi anche questo ancora un attimo e poi lo togliamo dal fuoco perfetto e anche questo è pronto ecco ve lo faccio vedere da un'altra angolazione vediamo proprio il nostro panino che pian piano si gonfia e diventa il nostro palloncino perfettamente cotto e ora che il mio ultimo panino è pronto non mi resta che metterlo su un piatto insieme a tutti gli altri eccoli qua piano piano si sgonfiano ma sono comunque morbidissimi adesso li lascerò raffreddare dopodiché li potrò conservare io generalmente li lascio raffreddare molto bene li metto in un sacchetto gelo e poi li congelo così quando li scongelerò li avrò come fossero appena fatti anche per oggi è tutto ci vediamo alla prossima ricetta buona giornata a tutti buona giornata a tutti grazie a tutti